La Campania, terra di mare, di sole, di colline, di vino e anche di olio, una grande varietà proveniente da tutte e cinque le province della regione che ha indetto per l'undicesimo anno il premio Extra Bio 2017 riservato alle aziende titolari di oli di oliva di categoria extravergine ottenuti da olive prodotte nell'annata agraria corrente all'interno del territorio della regione e certificate come biologiche. Un'annata, quella appena trascorsa, che ha messo in grande difficoltà tutti i produttori, tanto che nel nuovo catalogo solo in 18 sono riusciti a superare i criteri di selezione, con 350 della passata edizione. 3 più 1 alle categorie nelle quali aggiudicarsi il primo posto, con il trionfo di un irpino, un beneventano e due salernitani. È un premio che quando è partito, e l'abbiamo immaginato, è realizzato undici anni fa, era un premio che andava a controtendenza, c'era un modello di sviluppo agricolo e agroalimentare che andava nella direzione del produttivismo e quindi dei grandi volumi e dei costi contenuti. L'olio e l'olio biologico soprattutto evidentemente va su un altro modello, un legame forte tra olive e territorio e soprattutto anche la capacità di rispondere a quella domanda che oggi cresce nel mercato, che è una domanda che va sempre più crescendo sull'esigenza di un prodotto che possa essere anche definito biologico e realizzato anche con metodologie biologiche. Quest'anno non è stata una grande annata, è un'annata molto difficile, evidentemente i premiati e tutte le imprese che sono nel catalogo hanno fatto un grande sforzo, un grande lavoro e quindi a loro l'apprezzamento per aver raggiunto gli standard qualitativi per entrare in questo catalogo e soprattutto per tenere alto il livello qualitativo degli oli campani è sicuramente significativo soprattutto per quel che riguarda la tipologia dei biologico.